Come si deve concludere la terapia con l'anoressia giovanile? Radone e Walteroni dedicano uno spazio importante alla terza e alla quarta fase del trattamento. Infatti se il problema dura da tempo, anche solo da qualche anno, ti potresti trovare di fronte a delle questioni importanti. Per esempio, la persona deve confrontarsi con delle parti rilevanti della propria vita. Con anoressia, infatti, non parliamo semplicemente di un problema legato alla nutrizione o a una visione distorta del proprio corpo. Questi due aspetti infatti impattano con altri aspetti della vita, come per esempio le relazioni sociali o il confronto con gli altri. È innegabile che, nonostante l'impegno di forze contrarie, siamo immersi in una società che promuove delle idee troppo spesso disfunzionali rispetto al corpo. Tanto per citare uno di questi effetti si parla sempre più spesso del tiny privilege, cioè del privilegio dell'essere magri. Oppure la sana cultura della salute fisica viene declinata troppo spesso in una esteticità vacua che di salute ha veramente poco. Comprendi allora che il ragazzo o la ragazza con cui lavori potrebbe avere delle difficoltà a calarsi nel mondo reale al di fuori del tuo studio. Dentro la tua stanza c'è il principio di sanità, ma al di fuori nel mondo reale vige il principio dell'estetica. A volte quindi il lavoro da fare sulla percezione personale. Per esempio il cliente potrebbe avere un'idea troppo rigida di come devono essere le forme del corpo. Vi dico troppo rigida, apposta. L'estetica è in ultima analisi un valore soggettivo benché largamente influenzato da aspetti culturali e sociali, ma come per tutto una percezione troppo rigida che non lascia spazio alla flessibilità che richiede la vita fin da per generare delle limitazioni o delle sofferenze. Altre volte invece c'è da lavorare sulla percezione del giudizio. Il cliente potrebbe avere la percezione di essere giudicato per le sue forme, anche se magari non è così. È difficile far propria l'idea del accettati così come sei se i modelli a cui fai riferimento a partire dai personaggi tv fino arrivare ai compagni di classe sono in contrasto o diversi rispetto a come sei. Cosa fare allora? In questo caso può essere utile assumere una posizione confrontativa, di parlare apertamente direttamente con il ragazzo o la ragazza dei difetti estetici percepiti o degli standard agognati. Naturalmente eviterai la posizione rassicurante assunta generalmente dagli adulti e che non fa altro, sebbene sia comprensibile, non fa altro che far arroccare ancora di più il ragazzo o la ragazza sulle sue posizioni. Quello che farai invece sarà di discutere di possibili soluzioni che siano concrete, raggiungibili e adeguate. È il come ciò può essere raggiunto che fa la differenza. Poi quanto a questo potrà aiutare la persona con delle strategie relazionali. Sono le competenze nell'agire con gli altri che ci fanno sentire più sicuri e non la bellezza fisica in sé. Sentirsi più belli, che poi più di cosa, può sicuramente aumentare la sicurezza di sé ma non la implica necessariamente. Il ragazzo andrà allora aiutato a gestire il confronto e l'interazione con gli altri, a spostare l'attenzione da sé a loro. A questo punto si entrerà nell'ultima fase della seduta. Generalmente siamo massimo intorno alla decima seduta. Qui il tuo ruolo deve essere sempre più distaccato, volto a favorire sempre più l'autonomia del cliente. Dirà degli appuntamenti, vedi la persona una volta al mese e la aiuti nel raggiungere i suoi obiettivi personali e relazionali, fungendo più da supervisore. Questo è più o meno tutto ed è un interessante modo di lavorare coi problemi di anoressia. L'inconscio, niente, dinamiche famigliari profonde, è solo un lavoro atto concretamente a ripristinare percezioni personali funzionali e competenze relazionali adeguate. Naturalmente non si esaurisce qui, ci sono tante varianti di cui non ho parlato, i casi in cui c'è l'over exercising, o le abbuffate, o il vomito, o il purging, insomma c'è veramente tanta roba, però li puoi approfondire questi aspetti nei testi di riferimento. E' il caso di dirlo, per trattare i problemi di anoressia con la terapia breve tocca fare un'abbuffata formativa. Grazie a tutti.